Buongiorno a tutti. Con la terra piatta abbiamo toccato proprio il fondo. E ovviamente dai terrapiattisti puoi aspettarti di tutto. Guardando l'ultimo video di NeuroDrome nei commenti ho scoperto che c'è una teoria secondo cui NeuroDrome in realtà è Brazzogrew. Questa teoria si baserebbe sul fatto che la voce è la stessa, o meglio, la voce di NeuroDrome nei primi video sarebbe la stessa e che in seguito avrebbe camuffato la voce. Anche se non viene detto, suppongo che sia stato messo in mezzo Brazzogrew solo perché fa parte della Illuminati Crew. E quindi puoi congetturare presunti legami con la presunta setta degli Illuminati. A me personalmente la voce sembra diversa, anche se entrambi hanno una voce profonda e un accento romano. Vorrei ricordare però che Brazzo si chiama così perché è nato e cresciuto in Brasile. Infatti il romanesco di NeuroDrome mi sembra molto più genuino e verace, se qualcuno di voi è di Roma me lo potrebbe confermare. Ci sono varie ragioni per cui credo che questa teoria sia completamente infondata. Attualmente Brazzo ha quasi 700.000 iscritti, per diffondere le sue idee contro i complotti e la terra piatta potrebbe usare il suo canale. O perlomeno aprirne un altro che tratta di aumenti, avrebbe avuto molto più seguito. Se avesse perso il suo pubblico originario poco avrebbe importato, perché se pagato dai poteri forti i soldi se li sarebbe fatti lo stesso, anzi, se ne sarebbe fatti di più. Se all'inizio registrava la voce con un microfono qualitativamente inferiore come potrebbe essere Brazzo. Essendo uno youtuber molto seguito ha già tutta l'attrezzatura che gli serve. Inoltre, Brazzo è sposato e ha due figlie, NeuroDrome invece ripete spesso che non si sposerà mai e che conviene non sposarsi. Io credo che la moglie di Brazzo si incazzerebbe se il marito andasse in giro a dire certe cose. Anche perché le figlie ci rimarrebbero malissimo se scoprissero questa cosa. Come già spiegato dallo stesso NeuroDrome, se i suoi video fossero realizzati da altri perché dovrebbero usare la sua voce? Lui parla dialetto romanisco e ha un vocione che può anche non piacere. Inoltre, Brazzo è impegnato col suo canale, quello di NeuroDrome invece ha un'attività irregolare? Non conviene affatto al Cicapo o alla NASA, perché non ingaggiare qualcun altro per gestirlo? È assurdo credere, come dice questa persona che il canale è attivo e sorvegliato a K24. Per queste ragioni mi pare davvero assurdo credere che BrazzoCrew sia NeuroDrome. Infine vorrei sottolineare una cosa. Non c'è bisogno di pagare una persona affinché abbia un'opinione diversa da te. Se vai in giro per strada chiedi alla gente se crede alla terra piatta oppure no, tu credi che siano tutti pagati dal Cicap, dalla NASA, dalla massoneria o cose simili. Pula vieta una qualsiasi di quelle persone di aprire un canale YouTube e fare video sul perché non crede alla terra piatta. E poi, mi spiegareste perché io, Brazzo, Dexter, Favij che fanno Gameplay. Hanno migliaia seno milione di iscritti mentre NeuroDrome che va contro la terra piatta ha appena 66 mila iscritti. Acqua Brillante Channel ne ha meno di dirittura lo Samano ne ha appena 500. Spero di essere stato convincente, per il momento è tutto, alla prossima.